Ristoratori per terra gambe incrociate attorno a tovaglie con piatti e calici all'ingiù e la scenografica protesta della FIP e Confcommercio contro le restrizioni del DPCM andate in scena a Trieste. 406 nuovi contagi, 4 vittime da Covid, si aggrava la situazione in regione, il virus entrato anche nella cardiologia di Udine con 10 positivi tra pazienti e operatori, attività rallentate ma urgenze garantite. Tardano ad arrivare i fondi destinati alla scuola per fronteggiare la pandemia, insegnanti e persone alleate assunti per le supprenze Covid hanno lavorato fino ad oggi senza essere pagati, in regione sono 1.500. Una donna di 73 anni questa mattina ha rischiato di morire nel rogo che ha distrutto il suo appartamento a base della pente di Basiliano, è stata salvata da due militari in servizio, hanno visto le fiamme, hanno subito agito. Anche il mondo dello sport oggi è sceso in piazza contro il DPCM, ci hanno chiesto di rispettare il protocollo e poi ci hanno fatto chiudere preoccupazione soprattutto per i giovani. Buonasera e ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Tavole imbandite per terra con piatti e calici rivolti all'ingiù e intorno a gambe incrociate, ristoratori, camerieri e commercianti. L'immagine è simbolo della protesta organizzata in piazza Unità Trieste dalla Fipe e Confcommercio contro le misure disposte dall'ultimo DPCM. Piazza dell'Unità d'Italia è tornata nuovamente a essere la piazza della protesta. Oggi sono scesi in strada la Fipe, Confcommercio e poi si sono uniti le categorie dei cuochi e dei sommelier. Perché? Perché chiedono al governo un passo indietro nel DPCM, chiedono regole chiare, anche rigide e controlli serrati, ma vogliono continuare a lavorare. Parliamo di un settore, quello del terziario, che da lavoro a 51.000 persone, 9.000 nel turismo e 1.878 i ristoranti, 14.379 i dipendenti, 1.682 bar con 5.830 lavoratori. Chiediamo al governo di avere le idee chiare, le idee chiare perché il problema non terminerà fra una settimana, fra un mese e quindi vogliamo dare delle indicazioni anche agli operatori che sono stati più colpiti sia nel mese di marzo e di aprile sia con questi provvedimenti, di dargli delle indicazioni per avere una prospettiva. Le prospettive quelle possono essere? Beh, dei disciplinari che sono stati comunque sempre rispettati, si vuole andare a colpire i centri dove c'è un ammasso, basta andare nelle metropolitane, fuori dalle scuole. Non credo che in un ristorante con 20-30 persone ci sia un maggior pericolo di diffusione del virus che rispetto ad altre situazioni che conosciamo benissimo. Il provvedimento non ha una sua logica e va a colpire uno dei comparti più importanti delle nostre economie. Il rischio delle chiusure dell'ultimo DPCM è di far pagare un prezzo altissimo ad alcune categorie senza raggiungere risultati sul fronte della riduzione del contagio. A dirlo il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, intervenuto alla manifestazione indetta dalla FIPE come conferenza delle Regioni, ha detto Fedriga, abbiamo fatto una proposta unitaria, rimasta però inascoltata. Non cerchiamo lo scontro ma soluzioni. Il Presidente ha rivolto un appello alle opposizioni in questo momento della responsabilità collettiva. Noi abbiamo detto e vogliamo dire con chiarezza al Governo di mettere in campo, se è necessario, di misure, ma misure che servano a ridurre il contagio. Il rischio in questo momento è di far pagare un prezzo altissimo a categorie economiche senza avere risultato nella lotta alla pandemia e a ridurre i contagi. Io penso che questa sia una posizione di assoluto buonsenso e responsabilità che oltretutto è stata presa dalla conferenza delle Regioni, da tutte le Regioni italiane, con delle proposte costruttive. Il nostro scopo non è cercare lo scontro ma cercare soluzioni e ci auguriamo che il Governo sia sensibile a questo appello. Presidente, dal Governo sono arrivati 2,4 miliardi di euro per le categorie maggiormente penalizzate. È sufficiente o no? Voi avete in discussione una manovra da 12 milioni anche in questo senso. Noi cercheremo ovviamente di dare l'aiuto possibile rispetto alle risorse che abbiamo a disposizione, però credo che quelle del Governo, neppur con l'aggiunta di quelle regionali, siano sufficienti a colmare le enormi perdite che subiranno questi esercizi. Ma non solo. Il problema non è esclusivamente economico. L'incertezza che si è creata da DPCM dopo DPCM, settimana dopo settimana, rischia di far togliere, e oggi le chiusure, rischia di far togliere la speranza a chi fa impresa e a chi mantiene la propria famiglia facendo impresa. Quando noi togliamo la speranza, il rischio è che non riusciamo più a tenere il modello sociale. Per questo dico uniamoci e diamo delle risposte. L'appello che faccio è anche all'opposizione di questa Regione, a tutte le forze politiche di questa Regione, perché adesso deve essere il momento della responsabilità collettiva. In questo senso zone particolari, potere ai sindaci, potere ma anche responsabilità chiaramente. Ma guardi, io penso che la responsabilità abbiamo dimostrato di sapercela prendere. Io ho chiuso tutto prima degli altri. Quindi non è che qualcuno qua non vuole prendersi la responsabilità. E poi ho riaperto prima degli altri. Quindi quando c'era da fare le scelte le abbiamo fatte. Ma queste scelte noi non vogliamo che diventino uno scontro, perché fa male al Paese. E spero che il Governo lo capisca, perché gli appelli è l'unità per dopo non ascoltare e non è unità. Noi abbiamo fatto una proposta unitaria come conferenza a Regioni. Il Governo ci ascolti e noi diremo bravo Governo. Il mio scopo non è criticare il Governo. Il mio scopo è dare risposte a migliaia e migliaia di imprese, di lavoratori, che oggi rischiano il disastro. Proprio sull'onda dell'appello di coesione di intenti lanciato dal Presidente Federica in piazza Unità, questo pomeriggio, i consiglieri della Lega hanno esposto in sala consigliare dei cartelli con la scritta Uniti per il Friuli Venezia Giulia. Consapevoli della grave e imprevedibile evoluzione della pandemia, ha affermato Bordin, capogruppo della Lega, perseguiremo con un atteggiamento responsabile e collaborativo, ma deciso a chiedere misure adeguate e sostenibili al Governo. All'appello ha risposto anche il PD. I DEM si dicono pronti al dialogo, al confronto. Noi siamo disposti a collaborare dall'inizio della pandemia, ha spiegato il segretario del PD Cristiano Schauli. Da mesi abbiamo inviato decine di proposte dalle misure economiche alla sanità, ma ad risposte e collaborazione ne abbiamo vista ben poca. Ci siamo per dare risposte concrete ai cittadini di questa regione già da questo assestamento. Ma non ci stiamo, conclude Schauli, a chiudere gli occhi davanti ai numeri né ad alimentare ulteriori polemiche. Sono state oltre 2.500 le persone che si sono radunate questa sera in piazza 20 settembre per chiedere al Governo di rivedere le restrizioni anti-Covid a Pordenone. Pordenone scende in piazza per chiedere al Governo di rivedere l'ultimo DPCM che penalizza alcune categorie. La manifestazione organizzata da Ascom Conf Commercio ha visto in prima fila il sindaco Alessandro Ciriani. Non dobbiamo incendiare le piazze o buttare benzina sul fuoco, ma al contrario il sindaco ha il dover di incanalare nei binari istituzionali quella che è una protesta legittima, cioè quella della preoccupazione, qui non si fa la remedicazione allo sprizzo, la preoccupazione di tanti titolari dipendenti per il loro futuro, per il loro lavoro, per mettere insieme il pranzo e la cena. Le categorie economiche chiedono più rispetto. Un segnale che abbiamo dato in tutte le piazze nazionali anche questa mattina, non so quanto potrà servire, ma sicuramente deve servire a noi per esprimere il dissenso più totale nei confronti di un Governo che sta prendendo delle decisioni diametralmente opposte a quelle che noi riteniamo sarebbero opportune in questo momento. Tanti gli imprenditori scesi in piazza per far sentire la loro voce. Siamo stati bravi, abbiamo rispettato le regole sempre, Pordenone credo sia una città comunque dove ci siano persone molto intelligenti e se le regole le vogliono rispettare vengono rispettate. Com'è un nostro diritto pagare le tasse e anche un nostro diritto lavorare? Non chiediamo sussidi e non chiediamo soldi pubblici, noi chiediamo di lavorare, lo Stato ci ha chiesto di metterci in sicurezza in questi mesi e noi lo abbiamo fatto. Chiedi di lavorare anche il Comitato Io Vivo di Sport, oggi manifestazione pacifica nelle quattro province della regione, noi siamo andati a Udine. La realtà è che siamo davvero tanto arrabbiati perché sia atleti che danzatori sanno che cos'è la disciplina, abbiamo sempre rispettato le regole, siamo sempre stati molto diligenti perché questa è la nostra disciplina e vogliamo in questo momento avere dei riconoscimenti. È veramente una situazione assurda, abbiamo grandi sale ben distanziate, ormai igienizzate come hanno fatto tutti ed è un vero peccato non poter approfittare di questa cosa in un momento così pesante. Noi ci sentevamo parte attiva per poter affrontare e supportare la popolazione in questo momento, metterci in parte ci fa male, ci fa male proprio per i nostri utenti, i nostri frequentatori che non hanno più la possibilità di avere una valvola di sfogo sia mentale che fisica per affrontare al meglio questa emergenza. Il nostro non è semplicemente, è quello che secondo me è un po' passato l'attività di svago, lo sport è molto altro, è un'attività a 360 gradi. Ci sono stati investimenti per proteggere noi stessi come lavoratori ma anche i nostri clienti e ci siamo visti chiudere lo stesso, ci siamo sentiti presi giro. È vero che sono stati promessi dei fondi ma ci chiediamo con quali tempistiche perché se come per le precedenti casse integrazioni io devo ricevere ancora quella di maggio. E il comitato Io vivo di sport ha manifestato anche a Gorizia. Siamo tutti insieme, tutti uniti per una causa che è lo sport, perché lo sport purtroppo come abbiamo detto all'inizio non è superfluo. È educazione, è disciplina, è togliere i ragazzi da casa o dalla strada o qualsiasi cosa sia, è evoluzione fisica e mentale, per tanti è anche un lavoro e il pane quotidiano, perciò non è trascurabile e non è superfluo. I dati dei contagi di oggi nella nostra regione è 406 su 5.573 tamponi eseguiti e 4 decessi da Covid-19, una Trieste 3 a Pordenone. Nel dettaglio le vitime sono una donna di 94 anni di Pordenone, morta all'ospedale di Pordenone, proveniente da una residenza per anziani, un uomo di 84 anni di San Quirino è deceduto all'ospedale di Pordenone, un uomo di 89 di Sacile, morto in una residenza per anziani, una donna di 86 di Trieste, deceduta nell'RSA San Giusto. I casi attuali di infezione sono 3.766, sargono a 35 pazienti in cura in terapia intensiva e a 146 recuperati in altri reparti. Sale a 10 il numero dei positivi al tampone, alla cardiologia, a Santa Maria della Misericordia di Udine, ai 4 osse, ai 5 pazienti, si è aggiunto un infermiere. Al momento il reparto non è chiuso, riferisce al direttore generale dell'ASUFC Massimo Braganti, sottolineando che c'è un ralentamento nell'attività, ma che sono garantite tutte le emergenze, perché è stato attivato il protocollo di sicurezza per gli operatori e per gli utenti ed è stata fatta la sanificazione dei locali. L'ASUFC comunica che i soggetti sono tutti asintomatici, posti in isolamento, sono inoltre stati fatti i tamponi a tutto il personale della struttura e agli utenti. Alcuni pazienti sono stati spostati per consentire gli isolamenti, mentre il personale sanitario sta valutando la possibilità di dimettere pazienti dalla cardiologia e di trasferirli in altri reparti come malattie infettive o addirittura a casa per alleggerire l'ospedale. Il virus entra in giunta regionale. Ieri è risultato contagiato da Covid-19. L'assessore alle infrastrutture territorio Graziano Pizzimenti è asintomatico, si trova in quarantena nella sua abitazione di Udine e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Subito sono scattate le procedure per i tracciamenti che hanno coinvolto anche i colleghi della giunta regionale, più volte riunitasi negli ultimi giorni per discutere della manovra d'autunno. Tra i primi a sottoporsi alla prova del tampone l'assessore di attività produttiva e turismo Sergio Mediobini che ha partecipato per diversi minuti in un'unione proprio con il collega Pizzimenti. È probabile che altri assessori si sottopongano al test. Tra i 72 nuovi contagi al Covid emersi a Gorizia nelle ultime 24 ore è emersa anche la positività di un dipendente comunale. A darne notizia è stato il sindaco Rodolfo Ziberna che ha comunicato come gli uffici che ospitano l'impiegato sono stati chiusi e sanificati mentre i colleghi sono stati tutti sottoposti a tampone. L'epidemia è oggi largamente diffusa in tutta l'Italia e non più localizzata. L'indice che descrive la velocità di diffusione del virus dà l'idea della crescita che stiamo vivendo. È in tutte le regioni superiori a 1 e molte realtà lo superano ampiamente a spiegare il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, il Friolano Silvio Brusaferro durante l'audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato. Siamo arrivati fin qui, ha giunto dopo un periodo estivo con numeri limitati, un periodo settembrino lieve e progressivo aumento che ha avuto il suo picco nelle ultime due settimane. L'età media delle persone che contraggono l'infezione è oggi di circa 40 anni, nel periodo di picco era 60-70, nel periodo estivo circa 30 anni. Da oggi gli spazi del padiglione dei congressi di Udine, Gorizia Fiera e Martignaco saranno usati per le vaccinazioni dei bambini e adolescenti anche per eseguire i tamponi per il coronavirus. Attivato in Fiera Martignaco il centro per i tamponi Covid e per i vaccini. Si tratta di un ottimo modello di sanità pubblica che distingue l'attività di vaccinazione da quella di sorveglianza sanitaria, con percorsi differenziati, mettendo in sicurezza cittadini e operatori sanitari, ha detto il Vicepresidente Riccardo Riccardi. Un modello che può essere utilizzato al di là della situazione emergenziale. Abbiamo spedito gli inviti perché le persone che accedono oggi accedono tramite invito spedito al domicilio dell'interessato. Abbiamo preferito partire con i bambini della fascia dei 5-6 anni. Al piano terra abbiamo istituito la prima accoglienza con il triage, viene misurata la temperatura corporea e vengono inviati al primo piano per la vaccinazione. Al primo piano sono state strutturate quattro postazioni per l'anamnesi e l'accettazione e poi si mandano nei box e lì vengono proprio somministrate le vaccinazioni. Dopo la somministrazione abbiamo allestito una sala d'attesa post vaccinale, dopodiché con un flusso separato rispetto a quello di ingresso, il genitore insieme al bambino vanno verso l'uscita. Oggi sono stati invitati 130 bambini. Abbiamo mantenuto numeri piuttosto bassi nelle prime tre giornate per fare una sorta di test. Successivamente abbiamo intenzione di anche raddoppiare i numeri di prestazioni che riusciamo a garantire, proprio perché gli spazi sono grandi e consentono un flusso di persone importante. Tardano ad arrivare i fondi destinati alla scuola per affrontare l'emergenza Covid. Gli insegnanti e il personale ATA assunti temporaneamente per supplenze cosiddette Covid brevi hanno lavorato fino ad oggi senza essere ancora pagati. In la regione sarebbero almeno 1.500. In questi giorni gli uffici della Will Scuola Regionale stanno ricevendo segnalazioni da parte di docenti e persone ATA assunti temporaneamente per supplenze cosiddette Covid brevi che non hanno ricevuto lo stipendio. Lo comunica il segretario del sindacato Ugo Previti, evidenziando che in Friuli Venezia Giulia trovarsi in questa situazione sarebbero complessivamente oltre 1.500 persone, alcune delle quali arrivano anche da fuori regione. In Friuli Venezia Giulia, commenta il segretario Will, i fondi stanziati dal Ministero per questo specifico personale da impiegarsi nell'anno scolastico 2020-2021 ammonterebbero a 30 milioni di euro. Peccato che al momento non si siano ancora visti. Chi si è rivolto a noi continua Previti ci ha riferito ad aver chiesto chiarimenti agli uffici territoriali del Tesoro, la cui risposta è stata che i soldi stanziati ancora non ci sono. Un'ulteriore conferma della scarsità di fondi arriva dalla circolare dell'ufficio scolastico regionale, che impone agli istituti di sospendere la stipula e sottoscrizione di nuovi contratti di supplenza temporanea e di supplenza breve, sia per il personale docente che per quello ATA, fino a successive comunicazioni. Questo comporta ancora una volta un danno alla scuola pubblica, che oggi, conclude Previti, è invece il luogo più sicuro. È stata salvata da due sotto ufficiale dei carabinieri, una donna di 73 anni che questa mattina ha rischiato la vita a seguito di un violento rogo che ha distrutto il suo appartamento a Basaglia Penta di Basiliano. I due militari in servizio hanno avvistato le fiamme e sono entrate in casa per metterle in salvo. Hanno soccorso anche altre tre persone avvolgendole nelle coperte. Uno di loro è rimasto leggermente intossicato e medicato in ospedale. Due carabinieri hanno rimosso le bombe del gas per evitare un'esplosione. I danni all'alloggio, che è inagibile, sono molto ingenti. L'incendio causato da un problema alla cana fumare è stato domato di vigelfuoco di Udine. Sul posto anche i carabinieri della radiomobile, la stazione di Campo Formido e la polizia locale dell'Uti Medio Friuli. E una coppia di coniugi anziani è stata salvata questa notte dai pompieri dopo aver raggiunto un boschetto tra l'argi nel fiume Tagliamento alla Tisana, nella zona golenale, per cercare funghi. Il buio, l'inalzamento improvviso del corso dell'acqua hanno impedito loro di rientrare. Sono stati caricati su un gommone i riportatori vassani e salvi. Rubano un furgone a San Michele al tagliamento e poi lo danno le fiamme. È successo questa notte sulla strada che da Aris di Rivignano porta a teore ad omare il rogo. I vigili fuoco volontari di Codroico sul posto prendagini i carabinieri di La Tisana. Furto in una pelletteria di San Daniele nella notte tra lunedì e martedì malviventi hanno raggiunto lo stabilimento con un furgone che poi hanno abbandonato nelle vicinanze dopo il colpo utilizzando una scala. Hanno raggiunto le coperture, si sono calati da una botola, sono riusciti a eludere sistema di allarme e hanno rubato borse e portafogli di pelle per un valore di oltre 50 mila euro sul caso indagano i carabinieri. Alcuni piccoli gruppi di migranti sono stati segnalati, identificati nelle prime ore di oggi a Udine da parte degli agenti della Polizia di Stato, uno dei più numerosi è stato notato e fermato in Viale Palmanova. Sono in corso le operazioni di identificazione, poi di avvio al triage alla quarantena fiduciaria poiché provengono da paesi a rischio. Nella notte inoltre alcuni cittadini hanno segnalato la presenza di migranti anche lungo la regionale a Manzano, ma le ricerche effettuate dai militari dell'arma non hanno portato ad alcun rintraccio. Probabilmente gli stranieri si sono diretti a Udine. Era scritto che volessero imporci di chiudere, eppure ci hanno chiesto protocolli, investimenti per migliaia e migliaia di euro a recupero zero per poi negare alle nostre trete di poter svolgere lo sport in ambienti protetti, igienizzati e dimostrati come attualmente più controllati. E ora a contagio zero, un duro attacco al più recente DPCM, quello del presidente della Libertas Basque School di Udine, Leonardo De Biase. In qualche modo io ho voluto lanciare un grido di una popolazione che è quella dei giovani, che oggi come oggi non sta parlando a nessun livello in Italia. Io magari lo rappresento in questo momento come presidente di una società sportiva, ma rappresento 194 ragazze alle quali è stato impedito di poter fare la loro attività sportiva. Non gli è stata stata una spiegazione logica, perché in 450 metri quadri di un campo di basket nessuna si è ammalata di questa malattia, nessuna è stata contagiata, ma tutte sono andate lì a fare quello che è il loro hobby, la loro attività sportiva prediletta e rispettando pedisicuamente tutti quelli che erano i protocolli che gli venivano imposti. In Italia non c'è nessuno che dà voce ai giovani, non si capisce esattamente come li stiamo lasciando nel silenzio più totale e nell'indifferenza più totale. Queste bolle sono più controllate che mai. Vedo i percorsi che vengono fatti dalle nostre ragazze quando entrano dalla temperatura all'igienizzazione delle scarpe, all'igienizzazione dei palloni, eccetera, eccetera, in un ambiente dove abbiamo messo ionizzatori, ozonizzatori, lampade UV. Abbiamo fatto degli investimenti importanti. C'è da dire una cosa, la Regione in questo momento, insieme al CONI e insieme alla Federazione Palacanestro, ha messo a disposizione, perché ha avuto sicuramente lungimiranza ancora ad agosto, dei fondi per quelle società come si dette virtuose che in qualche modo investono le loro risorse per dare ai giovani determinate sicurezze. E questo noi l'abbiamo fatto e quindi siamo grati alla regione di questo. Però il problema fondamentale è che abbiamo le palestre chiuse. Se nei giorni scorsi era rimasto un interrogativo aperto circa la possibilità di impegnare i direttanti degli sport di contatto in allamenti individuali è l'aperto, adesso il dubbio è stato risolto con una interpretazione in senso restrittivo. Una circolare del Ministero dell'Interno è infatti posto fine ai dubbi o alle speranze che si erano creati tra le società, le quali in molti casi avevano comunque già fermato tutto, non comprendendo se e come continuare con la pratica singola in spazi aperti. Inoltre, sempre per gli sport di contatto vengono sospese non solo le gare le competizioni ludico-amatoriali, ma anche tutte le attività connesse praticate a livello dilatantistico di base, le scuole e le attività formativa di avviamento. Ricordiamo che il DPCM aveva imposto uno stop all'attività regionale e provinciale permettendo invece la prosecuzione di quella di interesse nazionale. Allo stato attuale dunque il blocco riguarda non più solo l'attività agonistica, ma anche gli allenamenti con distanziamento, contrariamente a quanto indicato al punto F del documento che circoscriveva l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolta all'aperto presso centri e circoli sportivi nel rispetto alle norme di distanziamento sociale e con divieto di assembramento. Chiudiamo con una notizia dell'ultima ora. Michele Pavan si è dimesso dalla carica di presidente regionale di Coldiretti. I motivi sarebbero legati a divergenze relative al Consorzio Agrario. Siamo in chiusura, ma vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 21 con Eletroshock, con Duce Alessandra Salvatori, dove riporcorreremo questa giornata di proteste contro le restrizioni dell'ultimo DPCM. Grazie per l'attenzione, buona serata su Telefriuli. Grazie per la visione!